Benvenuti su Italia Gossip Express. Prima di raccontarvi cosa è successo, vi chiediamo di supportarci lasciando un mi piace al video e iscrivendovi al canale. Per noi è davvero importante. Grazie. Il mistero di Liliana Resinovic, sessantenne di Trieste, resta irrisolto. Scomparsa nella notte del 14 dicembre 2021, è stata ritrovata senza vita a gennaio, all'interno di un sacco dell'immondizia, in un parco che un tempo ospitava un manicomio cittadino. Gli esami autoptici indicano che Liliana, moglie di Sebastiano Visintin, è deceduta per un improvviso collasso cardiaco. Tuttavia, nuove rivelazioni emerse durante una recente puntata di Quarto Grado introducono una nuova figura, Claudio Sterpen, un caro amico di Liliana, che solleva ulteriori interrogativi sul caso. Sterpen ha rivelato che Liliana aveva pianificato di trascorrere un weekend insieme a lui il 18 dicembre e che avrebbe dovuto avvisare Sebastiano entro il 16. Ma quel giorno è passato senza alcuna chiamata da parte sua. Silvia, cugina di Liliana, esprime nuovamente il suo disprezzo per Sebastiano, rifiutando l'idea che Liliana si sia tolta la vita. Sostiene che non era nel carattere di Liliana a compiere un gesto simile, soprattutto ora che aveva ritrovato l'amore della sua gioventù e poteva finalmente godersi la pensione. E voi cosa ne pensate delle parole di Silvia riguardo a Sebastiano Visintin? Lasciate i vostri commenti qui sotto e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati.